Cambio della guardia al vertice della squadra mobile della questura di Arezzo. Francesco Morselli lascia e prende il suo posto Pierluca Penta. Morselli, che era la guida dell'ufficio Aretino dall'8 gennaio 2018, da ieri infatti ha assunto l'incarico di vice dirigente della squadra mobile di Reggio Calabria, dove si occuperà di contrasto alla droga. Nel corso dei due anni di attività ad Arezzo, ha dato prova di grande dedizione e concretezza tra le operazioni più significative, ricordiamo indubbiamente il maxi blitz al parco del Colle del Pionta dello scorso maggio. Un dispiegamento di forze, forse mai visto in città, che aveva portato all'arresto di oltre 30 spacciatori, dando un durissimo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti e di fatto riconsegnando quell'aria verde alla cittadinanza. Merita altrettanto certamente una menzione l'indagine che aveva permesso di arrestare in tempo record il casentinese Federico Ferrini per l'omicidio di Maria Venazio de Sousa. la sessantenne brasiliana uccisa nel suo appartamento in zona Santa Maria delle Grazie alla fine dello scorso agosto. Ad Arezzo adesso ad assumere la guida della squadra mobile, il dottor Pierluca Penta, vice questo raggiunto della Polizia di Stato, che già dirigeva l'ufficio del personale e l'ufficio tecnico logistico provinciale, settori strategici per l'ottimale organizzazione delle attività della Polizia di Stato.